Mister Monaco sconfitta in casa contro l'Ischia Calcio, un primo tempo possiamo dire da grande, grandissima squadra, un secondo tempo il Capri è venuto a calare e purtroppo l'Ischia ha ribaltato il risultato. No, è il compito della partita, c'è stata una partita bellissima, grande intensità, giocata ambedue, ma parliamo dell'Ischia che è una squadra spettacolare, allenata da Enrico Bonacore in modo sublime, abbiamo fatto un primo tempo strepitoso, è normale che una squadra nuova, l'abbiamo fatta a dicembre, non puoi tenere per due tempi 90 minuti l'intensità del primo tempo. Poi con la mossa tattica di Enrico che si è messo con due punti sui due difensori, avevo premesso ai ragazzi nello spogliatoio che al primo errore ci facevano gol, e così è stato con Simonetti e con Longo, c'è una qualità impressionante. Noi abbiamo fatto una grandissima prestazione, però i punti non li dobbiamo fare con l'Ischia, i punti li dobbiamo fare in casa per salvarci con Massalubrenze, con Savoia, con le squadre che stanno col Forio, ma il Forio è una squadra tosta, più le altre squadre sono più abbordabili, dobbiamo fare punti per metterci la possibilità di giocare i play-out in casa, perché se lo merita la società, se lo merita la tifoseria di Capri, veramente qua c'è un ambiente sano e per bene. Questa è una partita preparata sull'intensità, sulla fisicità, su una palla lunga che metteva in difficoltà i difensori dell'Ischia, e poi con Giliberti e Mosca che hanno davvero fatto un'ottima partita. Sì, 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 noi tutta settimana, siccome ho la fortuna di vedere voi di tele-Ischia sempre, anzi mi sono preparato vedendo l'Ischia diverse volte, è la catena di destra con Trofa, con Mattera che oggi è giocata a sinistra, con Florio, strepitosa in eccellenza, può giocare anche in Serie D, perché si conoscono, hanno forza fisica, hanno qualità, il primo tempo li abbiamo tenuti alla grande, e poi Giliberti e Mosca sono due primizie per noi importanti, quindi ci danno qualità, ci danno corsa, ci danno forza. Peccato, sai, come dicevano, i punti non dobbiamo fare con l'Ischia assolutamente, però resta una grande prestazione, speriamo di proseguire domenica a Pomigliano, perché adesso non ci serve fare il bel gioco, ma a noi ci servono i punti, i punti che ci consentono di rimanere in questa categoria, perché, ti ripeto, noi abbiamo una grande società alle spalle, abbiamo il presidente Nino Florio, abbiamo il presidente Adalberto Cuomo e la famiglia Federico che non ci fanno mancare niente, e in eccellenza è un lusso, un po' come voi a Ischia, il Capriana Capri è una società a modello che potrebbe fare già da domani la Serie D. Quello che ho visto, penso, l'Ischia sicuramente, poi mi auguro l'Ischia perché io ho un passato magnifico con l'Ischia, sono nato con l'Ischia Calcio, ho fatto 150 partite tra i professionisti, diciamo, sto un po' nella storia, insieme al mitico Taratà, a Rispolone, a Billone, ci abbiamo fatto, però c'è alle spalle una tifoseria di Lega Pro, una società fortissima, una squadra altrettanto, lo staff tecnico di assoluto valore, penso le altre squadre alla fine si devono accontentare dei play-off, perché se l'Ischia ha fatto 3-4 vittorie e non abbassa la guardia, penso che non deve abbassare la guardia perché deve giocare adesso Massalo-Brenze, tutte le squadre deve salvare, non deve prendere sotto campo come ha preso all'andata il Monte Calcio, ha preso, ha andato a prendere Massalo-Brenze, se no l'Ischia adesso ha più 10. Sicuramente sugli errori del passato non li faranno più, e Enrico e il suo staff sarà pronto a dare battaglia questo mese di febbraio, si decide il campionato, deve fare 4-5 vittorie l'Ischia e sarà la Serie D.